Il 12 ottobre si celebra la giornata mondiale della vista, voluta anche per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di difendere dalle malattie un bene così prezioso. Per farlo quest'anno si è utilizzato un mezzo curioso, 300.000 etichette di bottiglie di latte Trento ospiteranno una campagna di informazione ad hoc, in Trentino i ciechi sono circa 700, oltre 2.000 gli ipovedenti in continuo aumento. Si allunga la vita, l'occhio è un organo che invecchia insieme al resto del corpo, gli stili di vita e soprattutto il diabete fanno la loro grossa parte, quindi le patologie oculari e soprattutto le tasse nilie sono molto in aumento. Il diabete in particolare è stato definito un autentico flagello, oltre 4 milioni malati in Italia. Ormai sta interessando molta parte della popolazione e a livello mondiale il diabete è la prima causa di cecità in età lavorativa, quindi tra i 20 e i 65 anni di età. La prevenzione quindi attraverso corretti stili di vita e controlli periodici è fondamentale. Non bisogna cioè attendere che si manifestino già i sintomi di una minorazione visiva, perché assistiamo spesso a dei sintomi silenti, si parla di patologie silenti, ad esempio il glaucoma è definito il ladro della vista, perché in maniera silenziosa il glaucoma ruba la vista periferica. Il 12 ottobre è giornata mondiale della vista, la cooperativa Irifor sarà dalle 9 alle 12 in via Belenzania Trento con l'unità mobile oftalmica per offrire screening visivi gratuiti alla popolazione.